Una cerimonia, quella del 238esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, alla quale hanno preso parte una sola rappresentanza delle fiamme gialle appartenenti ai reparti della sede Bergamasca, i comandanti dei sette dipartimenti esterni ed una delegazione dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. Una celebrazione semplice, breve e senza alcun invito esterno. Sia per motivi di essenzialità, sia per motivi di sobrietà, ma è una decisione che secondo me in questo momento storico particolare per il nostro Paese andava fatta. Il bilancio delle operazioni compiute dalle fiamme gialle di Bergamo nei primi cinque mesi del 2012 è stato molto positivo. Nella lotta all'evasione fiscale è stato accertato un imponibile sottratto a tassazione per 400 milioni di euro. 34 esercizi commerciali sono stati chiusi per mancata emissione di scontrini. Sul fronte dell'Ordine e della sicurezza pubblica sono stati sequestrati 740 kg di sostanze stupefacenti ed arrestati 36 responsabili. E in materia di contrasto alla contraffazione e alla sicurezza dei prodotti, le fiamme gialle hanno confiscato oltre 64 mila articoli e denunciato 40 soggetti. Ma soprattutto è emerso un dato importante e che fa ben sperare per il futuro. Ci sono stati circa 1500 termini percentuali di aumento di chiamate al nostro 117 e questo è un segnale che ci fa pensare che proprio è cambiato anche l'atteggiamento in termini propositivi e collaborativi della cittadinanza.